I cittadini europei avranno tempo fino al 31 agosto di quest'anno per scegliere i temi dei nuovi euro che nei prossimi anni sostituiranno le vecchie banconote, ormai in circolazione da oltre 20 anni. Attraverso un'indagine online e telefonica, la BCE sta sondando le preferenze su sette temi già preselezionati e che verranno tradotti successivamente in immagini. Il processo di selezione di temi e disegni prenderà diversi anni e il tema definitivo non si avrà prima del 2026. Le nuove banconote entreranno in circolazione dal 2029. Grazie a tutti.